Buongiorno Mr. Marioschina, è passata un'altra settimana, ci dice se ha le idee più chiare su quella squadra che hai in mente di schierare? Io credo che le idee le ho avute sempre chiare sulla squadra, la squadra ha bisogno di lavorare e ha bisogno di tempo, se avete pazienza ok, altrimenti io non ci posso fare niente, io le idee ce le ho chiarissime, i giocatori ancora hanno problemi tra di loro, si conoscono poco perché devono giocare, 18 giocatori diversi l'uno dall'altro, 10 undicesimi diversi dall'anno scorso, chiaro, non posso ritornare sempre con questa cosa, io non sono confuso, io le idee ce le ho chiare, ho 54 anni, faccio questo mestiere da tanto, le idee ce le ho chiarissime, però il calcio dovete capire e sapere, lo sapete molto meglio di me, che ci sono anche gli avversari che giocano, che ci mettono in difficoltà, che corrono, che sono organizzate, che sono ben allenate, che sono attrezzate, non è che non andiamo in campo e facciamo 10 contro 0, non lo facciamo, noi siamo una squadra che ha bisogno di giocare e per giocare bene ha bisogno di tempo, se il tempo c'è, ok, se non c'è non ci posso fare niente, poi è naturale che dobbiamo svegliarci, è naturale che dobbiamo fare meglio, sicuramente, ma noi le idee ce le abbiamo molto chiare, molto chiare. Io le chiedevo, appunto col passare del tempo, visto che ha chiesto sempre tempo, se avesse le idee più chiare, nel senso di aver valutato adesso al meglio alcuni degli elementi che potrebbero essere titolari fissi e quindi avere una formazione sua già in testa. Assolutamente sì, purtroppo questo non è stato possibile perché abbiamo avuto giocatori che sono arrivati in ritardo ed erano, ma sono ancora qualcuno in ritardo di condizione, abbiamo avuto qualche defezione dal punto di vista fisico, quindi qualcuno non è stato pronto, la struttura dietro stiamo cercando di dargli una giusta identità, nonostante ancora, ripeto, facciamo degli errori, ma questo succederà sempre ed è naturale che, ripeto, col passare del tempo avremo quelli che giocheranno di più, è normale, nonostante il fatto che ci siano più partite in una settimana, a volte ci sarà anche la Coppa Italia, quindi dovremmo anche cambiare qualcosa, ma la fissione della squadra ci deve essere, quindi ci sarà chi giocherà di più e purtroppo chi giocherà di meno, ma quelli che giocano di meno spesso sono molto più importanti di chi gioca di più, però ripeto, noi le idee ce le abbiamo non chiare, chiarissime da questo punto di vista. Il problema è che noi siamo partiti non bene e magari uno si aspettava qualcosa di diverso, anche noi, e magari qualcuno si va a prendere la paura, noi dobbiamo avere coraggio, non paura. Buongiorno mister, Nicola Serracino, Faccia Città Aperta, le chiedo un'analisi della gara di sabato, insomma, quali sono le insidie dal pescare, poi quanto potrebbe contare, anche se dico una banalità, a livello psicologico, una vittoria contro una squadra accreditata appunto come il Foggia per vincere il campionato, potrebbe iniziare davvero un nuovo campionato domani? Il nostro campionato è già iniziato, abbiamo fatto 4 punti in 2 partite, nonostante il fatto che a potenza abbiamo fatto degli errori, la partita si poteva vincere, si poteva anche perdere, quindi chiedo alla squadra che quando vediamo che non si può vincere non si deve perdere, noi, ripeto, indipendentemente dall'avversario, che sia il pescare o meno, la vittoria è sempre importante, quindi il fatto che si possa battere più o meno il pescare a noi ce ne frega poco, nel senso che noi dobbiamo vincere, dobbiamo vincere le partite e naturalmente la vittoria aiuta, aiuta tantissimo, aiuta a livello morale, aiuta a passare settimane tra virgolette un po' più serene, ma noi, ripeto, da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli, perché la squadra sta lavorando, lavora bene, io da questo punto di vista non mi posso lamentare, quindi le insidie ci sono poi, la disamina la faremo poi a fine partita, ma le insidie ci sono perché è una squadra forte, una squadra organizzata per fare un grande campionato, una squadra di blasone, ed è naturale che sia una partita complicata, ma io penso che la stessa cosa la stiano pensando anche loro, vengono a Foggia, una squadra attrezzata, una squadra buona, forte, anche per loro sarà una partita complicata, quindi vedremo. Buongiorno mister Michele Carelli di Mitico Channel, tornando alla partita di Potenza, ma per proiettarci evidentemente a quella di domani, con qualche collega abbiamo rivisto la partita qualche giorno fa e ci siamo accorti ovviamente del 4-3-3 del primo tempo e del secondo, e del secondo in cui invece a differenza di quanto si era detto in un primo momento da parte di qualcuno, che si fosse poi passati al 4-2-3-1, in realtà ci siamo accorti che il 4-3-3 del primo tempo era stato confermato, che cosa variava? Schenetti che faceva il ballerino dal ruolo di Mezzala al ruolo di riferimento dietro ad Ogunsei, è praticamente questo. Quindi voglio dire, c'è questa sorta di bipolarismo modulistico, io lo chiamerei, questo dipende, questo bipolarismo dipende dagli interpreti, cioè a seconda degli interpreti, oppure, e quindi in proiezione di domani, che cosa accade? La riconferma di quanto è accaduto a Potenza? Grazie. Guardi, nel secondo tempo a Potenza è cambiato l'atteggiamento della squadra, è cambiato no, in modulo no, qualche interprete è messo in un posto diverso, ma non è cambiato nulla, però è cambiato l'atteggiamento di una squadra che non voleva perdere, di una squadra che ha capito che bisogna avere coraggio a giocare, a fare le giocate, a prendersi anche qualche rischio, ma non è cambiato nulla, quindi dal punto di vista, diciamo, del modulo non è assolutamente cambiato nulla. Questo per dire che è tutto nella testa, spesso, quasi sempre, nel calcio e funziona anche così. Quindi, ripeto, non è cambiato niente dal punto di vista del modulo, è cambiato l'atteggiamento della squadra, un atteggiamento molto più aggressivo, molto più attaccato alla seconda palla. Ripeto, abbiamo anche rischiato qualcosina, ma era previsto, eravamo in svantaggio, dovevamo cercare di pareggiare, dopo il pareggio abbiamo cercato di vincere a tutti i costi, rischiando anche di qualcosa. Quindi questo ci sta, però, ripeto, è cambiato più l'atteggiamento che altro. Mister, buongiorno. Mario Mescia per la goleada. Domani arriva allo Zaccherino una squadra con individualità importanti. È una squadra che ha vinto tre volte e ha perso solo una volta, tra l'altro di misura, su un campo ostico come quello di Crotone. In virtù di questi risultati le volevo chiedere in cosa il Foggia deve stare maggiormente attento domani. Loro hanno vinto tre volte e due fuori casa, una volta hanno perso in casa col Crotone. È una squadra che gioca, se gli diamo spazio e tempo di giocata, quindi dobbiamo stare molto attenti. Non possiamo sicuramente fare 90 minuti a prenderli continuamente a uomo perché non si può fare. Dobbiamo essere bravi a capire la partita, i momenti della partita, i momenti in cui dobbiamo soffrire, i momenti in cui invece abbiamo dalla nostra anche la verve giusta per attaccare, dove si creano gli spazi in base alla preparazione della partita che abbiamo fatto. Questo, ripeto, non sarà facilissimo ma dobbiamo provarci continuamente cercando di capire anche che l'equilibrio è fondamentale. Nella preparazione della partita è naturale che l'una è diversa dall'altra perché cambiano gli interpreti, cambia la squadra. Però quello che deve essere il nostro atteggiamento, il nostro modo di essere, il nostro modus operandi deve essere sempre quello. Il canovaccio deve essere sempre quello. Ripeto, indipendentemente se sia il Pescara o sia il Potenza o il Francavilla, questo c'entra poco. Poi dal punto di vista mentale preparare questa partita è molto più semplice per l'allenatore perché non ha bisogno di caricare a palla la squadra, la squadra è già carica di per sé perché sa che affronta una squadra blasonata, una squadra forte, una squadra che fa il campionato per cercare di vincerlo o comunque per essere lì tra le prime. Quindi, ripeto, sono tranquillo. È naturale che la partita ha delle insidie, ha delle insidie per noi ma ha anche delle insidie per loro. Buongiorno, mister Carmine Troisi, Telefoggia. Mi riaggancio allo sfogo suo iniziale di una squadra completamente nuova o giù di lì, una squadra che per esempio nella settimana scorsa è stata costretta a giocare tre volte in appena sei giorni, quindi c'è poco tempo per lavorare. Nell'ottica invece di una settimana in cui avete avuto modo finalmente di lavorare unicamente pensando a una partita, anche se è una settimana corta, visto che si gioca di sabato, quanto è stato importante lavorare in maniera diversa, senza l'assillo della partita ogni due o tre giorni. È moltissimo, perché lavori su delle dinamiche tue, non devi solo pensare all'avversario, devi pensare anche a costruire il tuo, che poi diventa fondamentale nella preparazione delle partite, ma devi essere bravo a costruire il tuo, la tua fisionomia, il tuo modo di essere, che poi lo vai, tra virgolette, un poco ad adattare anche a quello che sarà l'avversario, ma non deve cambiare più di tanto, perché la fisionomia deve essere quella. Quando non hai i giorni, l'indomani della partita era un giorno di scarico, il giorno dopo è il giorno di rifinitura, su questo non puoi lavorare, devi solo lavorare in base a quello che l'avversario è e in base a quello che tu hai fatto fino ad allora. Quindi la settimana lunga è normale che sia importantissima, ma è stato così anche per le altre squadre. Il problema è che noi in questa settimana abbiamo incontrato squadre che veramente hanno cambiato poco rispetto allo scorso anno, con una fisionomia marcata, una fisionomia importante, perché vedi il Picerno, vedi il Francavilla, vedi il Potenza, sono squadre che hanno comunque cambiato poco, squadre che si allenano sempre sullo stesso campo, Picerno e Potenza giocano in un campo sintetico dove fanno tutto lì, si allenano solo e sempre lì, hanno misure di campo, non sono cose da sottovalutare. Noi siamo andati a giocare contro di loro, soprattutto con Francavilla e Potenza, con un giorno in meno di recupero, non è da sottovalutare questa cosa, però è determinante avere la settimana lunga. Infine, capitolo infermeria, Peterman, Auger disponibili? Sì, sì, vediamo, stiamo valutando qualcos'altro che è capitato ieri, ma credo che sia tutto ok. Peterman è recuperato, Auger è recuperato, abbiamo la squadra tutta recuperata. Grazie. Domenico Carella, Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno, mister. Ha usato tante volte in questa conferenza la parola coraggio, probabilmente è quello che sta chiedendo in questo momento ai suoi ragazzi per fare il risultato. Le chiedo, in maniera indiretta, come si interpreta per i calciatori questo coraggio in campo? Cosa vuole vedere domani dalla sua squadra sotto i termini di coraggio? Devo rischiare le giocate, bisogna giocare a calcio, bisogna sapere che quando si fa una giocata si può anche sbagliare, rimediamo. Si rimedia, si rimedia col compagno vicino, si rimedia con le marcature preventive, con le coperture preventive, però la giocata bisogna farla, altrimenti li attanelliamo e loro devono dare sfogo a tutto quello che sanno fare. Oltre ad avere un'impostazione tecnico-tattica di base, oltre ad avere una fisionomia sulla quale ci dobbiamo assolutamente basare per giocare di squadra, ognuno di loro deve dare fondo a tutte quelle che sono le proprie situazioni tecniche, il proprio bagaglio, e quindi ognuno di loro deve fare le giocate che sa fare, all'interno di un contesto di squadra, all'interno di un contesto di lavoro di squadra, di gioco, di fisionomia, però devono giocare, devono essere liberi nella giocata senza, ripeto, avendo anche il coraggio di sbagliare. Il coraggio è un aspetto mentale, diciamo, della partita e della squadra, è un aspetto che è mancato secondo lì in questa prima parte di campionato, c'è qualcosa che è mancato perché lo sta chiedendo in questo momento? No, l'ho chiesto sempre, è una cosa che fa parte di me del modo di lavorare, naturalmente è una squadra che parte partendo in casa, purtroppo a livello mentale in qualche giocatore nuovo che magari si vede 10.000 persone allo stadio, non l'aveva mai avuta, può esserci un po' di, tra virgolette, timore, questo non deve succedere, anche i giovani, anche quelli che non sono abituati, devono avere coraggio a fare le giocate, devono avere la sicurezza che nel momento in cui sbagli succede poco, succede niente, sbagli e si rimedia, sbagli e si rimedia, è dall'errore che poi nasce tutto, noi dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile, ma se vogliamo fare le giocate qualche rischio ce lo dobbiamo prendere, lo fanno tutti, altrimenti ci mettiamo lì negli ultimi 30 metri, difendiamo e poi giochiamo a palla fa tu, come si dice da noi, quindi questo non bisogna fare, dobbiamo essere tranquilli, sereni, bravi a fare le giocate, mantenendo un equilibrio di squadra, però ripeto, quando abbiamo palla dobbiamo giocare. Buongiorno, mister Antonio Giammarino, l'immediato è Foggia Calciomania, valutando il Pescara, che è una squadra che è stata costruita più o meno con gli stessi obiettivi del Foggia, ritiene che quella di domani è già una partita decisiva per il destino finale del campionato del Foggia o è ancora troppo presto? No, no, non lo può essere la quinta, non può essere, c'è ancora tantissimo da giocare, da fare, i campionati normalmente sono lunghi e faticosi, quello di Serie C lo è ancora di più, quello di Serie C è ancora di più perché va in campi difficili, in campi tosti, ripeto, poi si giocherà anche qualche mese settimanale, ci sarà la Coppa Italia, che incominceranno a esserci squalifiche, purtroppo anche infortuni, ma parlo io indipendentemente dalle squadre, capiterà a tutti, quindi dovremo fare i conti con tante altre dinamiche che oggi prevederlo è impossibile, quindi siamo ancora all'inizio, non potrà mai essere una partita risolutiva. Buongiorno, Emanuele Rosario, Gazzetta dello Sport, lei quanto è arrabbiato personalmente, perché credo che anche lei si aspettasse un avvio così difficile, vista anche la preparazione, tutto il tempo che ha avuto per arrivare a questo avvio di campionato, e quanto manca a questo Foggia per la sua idea di calcio, perché anche a Potenza si è visto che non è ancora la sua idea di calcio, ho visto diverse squadre allenate da lei giocare anche un buon calcio, Trapani, Brescia, lo stesso Palermo anche quando l'ho allenato, questo è un Foggia ancora lontano da quelle squadre. Ma ripeto, è anche difficile perché un conto è giocare per vincere, un conto è giocare per non perdere, quindi sono tutte situazioni che si vedono in itinere, i campionati scorsi non li prendono nemmeno in considerazione, perché gli obiettivi erano altri, perché le situazioni erano altre, quindi la leggerezza della testa dei giocatori è la cosa più importante, quindi non possiamo paragonare gli altri anni a questo, ma così come non paragono un anno con l'altro, in base anche a quello che ho trovato, all'ossatura della squadra che ho trovato, quindi diventa difficile, ma dipende anche molto dagli avversari, da chi incontri, da come lo incontri, dal momento in cui lo incontri, da quello che stanno passando, dalla forma che hanno. Io non sono arrabbiato, nel senso che mi arrabbio con il... non sono arrabbiato, mi sono lasciato andare ad uno sfogo dopo Picerno, perché lì era una partita che secondo me potevamo, tra virgolette, un po' chiudere nel primo tempo, nei primi 20 minuti, e quindi a fine partita ho detto che ero arrabbiato, ma ero arrabbiato per questo, ma non per la volontà dei giocatori, o per quello che i giocatori stanno facendo. Noi, come ho detto sempre, abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di tempo. Io oggi sono molto fiducioso, ma sono veramente molto fiducioso, perché la squadra è una squadra che segue, che è molto attenta, ma non è facile però interpretare tutto quello che naturalmente facciamo in lamento, interpretarlo bene durante la partita, perché ci sono gli avversari, perché ci sono gli avversari. Faccio sempre l'esempio della scuola, quando tu vai a scuola e sei interrogato, se tu sei preparato e hai studiato quello che dovevi studiare, nessuno ti può dire niente, perché il professore ti può interrogare solo su quello che è il programma. Se tu conosci il programma, lì prendi 8, prendi 9, prendi 10, se tu non lo conosci niente. Qui non è così, perché nonostante tu studi, studi il programma, prepari la partita benissimo, dall'altra parte ci sono 11-16 giocatori che sono lì per scompigliare tutto quello che tu hai preparato, che ti fanno andare fuori il programma, e ci sono situazioni che non puoi prevedere, e la situazione mentale, oltre che quella tecnica e tattica, diventa determinante. Quindi avere i giocatori preparati anche da questo punto di vista, e per preparare da questo punto di vista c'è bisogno di tempo. Io non dico che c'è bisogno di 4 mesi, 5 mesi, ma dobbiamo giocare, dobbiamo giocare, dobbiamo lavorare su questo. Questo è quello che voglio dire, e io spero di essere chiaro anche con voi, perché altrimenti diventa difficile far passare questo messaggio. Noi abbiamo bisogno di lavorare, di giocare, ma non è che tutto quello che facciamo e poi lo portiamo in campo e ti riesce tutto. No, perché ci sono gli avversari che lavorano come noi, quantomeno come noi. Quindi diventa complicato. Poi, ripeto, dobbiamo essere coraggiosi, dobbiamo avere la capacità di capire che l'errore ci può stare, e rimediamo all'errore, ma se noi non facciamo le giocate per porre di sbagliare, siamo morti. È questo che deve cambiare, è questo che sta cambiando. Grazie a tutti.